Episodio 3 del corso di Shopify, oggi guardiamo l'interfaccia utente. Non è complessa, però chiaramente vedete che il menu a sinistra è un po' pieno, comunque c'è un po' di roba a schermo, non sono due cose in croce. Però fatemi zoomare un pochino perché penso che possiate avere difficoltà, altrimenti a seguirmi, e adesso possiamo vedere un po' cosa ci offre sostanzialmente Shopify in quello che noi chiamiamo il back-end o back-office, oppure zona admin, vedete? Zona admin. Quindi questa qua è la zona da cui andiamo a gestire il nostro account e anche il nostro negozio. Negozio inteso come sito, perché sito sinonimo di negozio in questo caso. Allora qua siamo nella home, vedete? Siamo nella home e mi dice che ho ancora, sono ancora in modalità di prova, in trial, quindi qua ci dà la possibilità appunto di selezionare il nostro piano e fare un euro al mese per tre mesi, niente male, anziché pagare 28 euro. E poi qua sotto abbiamo la stessa cosa, potete chiuderlo, fate quello che volete. Qua sotto abbiamo una guida, ci dice che cosa fare per cominciare a utilizzare il nostro sito. Quindi aggiungere un prodotto, modificare lo store online, cambiare il nome dello store, sistemare i pagamenti, rimuover la password, eccetera, eccetera. Queste cose qua le faremo. Più che altro vi spiego come farle in determinati video, quindi andiamo a vedere sostanzialmente tutto. Mentre invece, come vi dicevo, nel mio corso da zero a e-commerce in un'ora, facciamo tutta sta roba però senza spiegarvela. La facciamo e basta, mi seguite pari passo e siete a posto. Scegliete se volete capire cosa state facendo, oppure dovete fare alla svelta per ora e dovete solo copiare. Detto questo, qua sotto abbiamo maggiori informazioni, come vedete per quanto riguarda Shopify ci offre molto di più, ad esempio l'App Shop, l'hanno cominciato a sponsorizzare tanto, molto recentemente, hanno aggiunto tanta roba interessante. Quindi qua sotto c'è altra roba riguardo l'ecosistema Shopify. Al momento non ci interessa, qua abbiamo la ricerca, al momento non ci interessa. Logo Shopify, abbiamo qua il centro notifiche o avvisi, al momento non abbiamo niente. Qua abbiamo il My Store, perché al momento si chiama My Store o mio negozio, dipende se verrà scritto in italiano o meno. A me ha fatto questo mix di italiano-inglese. Abbiamo poi tutti i negozi, perché? Perché abbiamo la possibilità, come vedete, di gestire più negozi. Quindi con un account possiamo gestire più negozi. Non è che se volete creare un altro e-commerce dovete creare un altro account, usare un'altra mail. Avete qua il vostro store, potete creare un nuovo negozio e gestirlo da qua sostanzialmente. Quindi vedete, siamo esattamente nello stesso post di prima e si chiama My Store. Poi qua abbiamo il centro assistenza, il forum, scorciatore da tastiera e poi qua abbiamo la gestione dell'account. Quindi da qua potete gestire l'account, cambiare password, cambiare email, eccetera, eccetera. Da qua fate l'uscita da Shopify. Detto questo, torniamo qua sulla sinistra e cominciamo a vedere che cosa abbiamo a disposizione. Allora la home è questa, avvisi, altre cose importanti. Abbiamo poi gli ordini. Da qua andremo a gestire gli ordini di acquisto che ci arrivano. Quindi possiamo andare a vedere bozze di ordini, se dobbiamo fare varie etichette di spedizione, checkout abbandonati, quindi possiamo vedere se qualcuno ha provato a metterne il carrello, è arrivato quasi a pagare ma poi se n'è andato. Ogni tanto qualcuno fa così, so che anche qualcuno di voi fa così, mettete nel carrello, volete vedere quanto vi costa in totale, quanto è vero di spedizione, poi dite, ah no, vabbè, ciao, oppure faccio la prossima volta. Poi abbiamo la sezione prodotti. Da qua possiamo gestire i nostri prodotti, lo faremo dai prossimi video. Quindi possiamo aggiungere un prodotto, possiamo creare collezioni di prodotti, potrebbe essere maglioni, magliette, roba estiva, eccetera, eccetera. Possiamo gestire le scorte, quindi in realtà il nostro inventario di magazzino. Abbiamo ordini d'acquisto, vedete, monitor e ricevi le scorte ordinate dai fornitori. Quindi qua possiamo andare a gestire questa parte. Abbiamo eventuali trasferimenti, quindi nel caso avessimo più sedi nella nostra attività, poi ne parleremo delle sedi o delle location dei magazzini, chiamateli come volete, possiamo poi andare a dire, ah, ho spostato questa cosa dal magazzino di Milano al magazzino di Bergamo, e via discorrendo. Amazon, non usa Shopify, però molto probabilmente, considerata la logistica che hanno, hanno una struttura del genere, e sanno esattamente che libro tal dei tali si trova in un magazzino piuttosto che un altro, ok? Quindi noi possiamo avere una cosa simile. Non è detto che vogliamo farlo, possiamo farlo. Abbiamo poi i buoni regalo, che sono le gift card. Abbiamo poi la sezione clienti, quindi un piccolo database che abbiamo di clienti, dove possiamo gestirli. Abbiamo poi i segmenti, che sono delle sottosezioni dei nostri clienti. Quindi possiamo avere i clienti iscritti alla nostra newsletter. Possiamo avere i clienti, quindi customer, che sono, che hanno comprato almeno una volta. Possiamo avere i carrelli, quindi checkout, scusatemi non il carrello, ma il checkout abbandonato negli ultimi 30 giorni. Quindi persone che negli ultimi 30 giorni hanno detto, ah, sto per comprare, no me ne vado, e quant'altro. Abbiamo poi il contenuto, quindi possiamo andare a creare, li vedremo più avanti, dei meta object. Abbiamo poi la possibilità di caricare i file, se ci servono immagini, pdf, eccetera. Abbiamo poi la zona di analisi, con l'analisi in generale, report sulle vendite, come potete vedere. E poi abbiamo la live view. Quindi abbiamo in tempo reale che cosa sta succedendo. Mettete che magari fate un lancio particolare e volete sapere che cosa sta succedendo. Magari qualcuno di voi, youtuber, influencer, eccetera. Ah ragazzi, oggi è uscito questo, bam, vi mettete qua e controllate. Ma poi chiaramente ne parleremo meglio. Zona marketing, quindi da qua potete gestire le mail che mandate, quanto vi hanno portato, eccetera, eccetera. Quindi qua vedete campagne di marketing, eventuali automazioni. Abbiamo poi la zona sconti, dove possiamo creare sconti e promozioni. E poi abbiamo i canali di vendita, che sono il nostro store online, che sostanzialmente è il sito che vediamo. Quindi se voi andate su online store, il nostro online store, io spero che per voi siate radotto. Magari sta facendo sta cosa qua solo per me, eh. Se voi andate su online store, come potete vedere, avete qua view your store e andate di base sul vostro sito. Vedete? Questo al momento è il mio sito. Bruttino? Sì, però questo è il mio sito, col mio catalogo, altre cose, eccetera, eccetera. E vedete che al momento punta ad un numero, punto myshopify.com. Questo nome lo andremo poi a cambiare. Non preoccupatevi, farò un video in cui vi spiego come gestire il vostro dominio personalizzato. Però questo è il nostro store, è il nostro negozio, ok? Quindi da qua in online store andiamo a gestire il nostro sito. Possiamo perciò cambiare il tema, possiamo modificare il tema che abbiamo, comprarne un altro. Insomma ce ne sono parecchi, ce ne sono alcuni gratis, ce ne sono alcuni a pagamento, poi vedremo tutta sta cosa. Abbiamo poi la possibilità di fare dei post dei blog, quindi possiamo andare a creare degli articoli. Esempio, poniamo il caso che io vendo saponi, migliori 10 saponi alla fragola da comprare quest'anno. Bam, e discuto questo. Oppure perché comprare un sapone alla fragola? Magari qualcuno scrive su Google, perché comprare sapone alla fragola? Bam, non è così facile, ma teoricamente bam, compare il mio blog post, il mio articolo in prima posizione su Google. Ah, ecco che mi dice perché comprare alla fragola. Guarda che io vendo un sapone alla fragola e comprano da noi, ok? Poi questo qua è marketing eccetera, marketing SEO, perciò ho anche questi corsi sul canale. Andate a vedere, spiegherò brevemente quando arriveremo a questa parte, però sono altre cose che esulano dalla gestione di Shopify. Qua abbiamo la password, semplicemente perché non abbiamo ancora un piano scelto per il nostro store. Quindi vedete che siamo ancora nella fase di prova, non abbiamo ancora cominciato a pagare. Perciò in realtà non possiamo veramente essere online su Shopify finché non paghiamo. Con la versione di prova, con la versione trial gratuita, possiamo andare a sistemare il nostro sito, ma non possiamo per davvero andare online. Dopo che abbiamo le pages, che sono le pagine, possiamo andare a creare più pagine sul nostro sito. Abbiamo la navigazione, come potete vedere, qua c'è il menu da gestire. Abbiamo poi delle preferenze, quindi possiamo mettere il titolo nella home page, la descrizione, l'immagine che può comparire quando le persone condividono il nostro sito in giro e altre cose che vedremo. Poi abbiamo il point of sale. E il point of sale è molto utile se avete una posizione fisica. Qua sta caricando in modo massivo. Facciamo aggiorna, giusto per questioni di tutorial. Perfetto, da qua potremmo andare a chiedere il nostro point of sale, che in realtà è il POS. Vedete, point of sale, P-O-S. Quello che conosciamo come il POS. Nessuno probabilmente sapeva cosa vuol dire POS, in realtà il POS è point of sale. Il point of sale, altro non è che il punto fisico in cui la persona striscia la carta di credito, sostanzialmente. E quindi cosa possiamo fare? Posseremo dirgli, sì, lo voglio per il mio negozio fisico, ho la bancarella nel mercato, oppure faccio pop-up store. Quindi roba che è il pop-up store, ci sono una settimana, poi chiudono, poi li faccio altrove e quant'altro. Altra roba che vedremo più avanti, nel point of sale possiamo gestire tante altre cose. E poi abbiamo lo shop. Io il point of sale non lo posso fare, semplicemente perché non ho un punto fisico. Quindi non ho modo di farvi vedere questa parte. Qua dovrete andare con i tutorial di qualcuno che effettivamente ce l'ha. Dopodiché abbiamo shop, che è l'applicazione di Shopify. Quindi Shopify vi dà la piattaforma per avere il vostro sito, quindi negoziodisaponi.it, ok? Se però volete comparire sull'app di Shopify, è un'app e-commerce dove ci sono tutti coloro che sono su Shopify, il vostro store compare anche qua, ok? Quindi al momento non possiamo esserci perché dobbiamo attivare i pagamenti. Per attivare i pagamenti ci serve comprare un piano, quindi per ora tutta sta parte salta. Dopodiché abbiamo la sezione delle app. E la sezione delle app al momento salta. Le app sono i plug-ins arrivate da WordPress. Sostanzialmente possiamo aggiungere delle funzionalità al nostro store. Ad esempio, di default Shopify non ha le recensioni. Quindi Shopify ci dà un sito iniziale abbastanza scarno, ha le robe essenziali. Perché? Perché aggiungere roba appesantisce il sito. Quindi ti dice, io non ti metto tutto quello che ti serve e poi ti togli tua mano quello che non ti piace. Io ti do la base per cominciare. Poi quello che ti serve in più te lo vai ad aggiungere, ok? Quindi quella parte lì sarà un po' più corposa. Perché? Perché molti di voi magari non sanno che ci sono determinate applicazioni che possiamo utilizzare, eccetera. Ma le app sono semplicemente delle aggiunte che facciamo al nostro sito. In altre situazioni dovreste chiamare un programmatore, chiamate me. Edo, ma non mi hai messo le recensioni? Mi puoi mettere le recensioni? Ah, ok, va bene. Mi ci vogliono qualche giorno di lavoro. Voi dovete tirar fuori qualche migliaio di euro. Però è fatto. Mentre invece qua, installate un'app, in 5 minuti siete a posto. Questa è la differenza sostanziale tra Shopify e pagare qualcuno per farvi l'e-commerce a mano programmandolo. Potete pagare qualcuno che vi fa l'e-commerce su Shopify, eh? Ci mancherebbe, ma è per farvi l'esempio. Dopodiché qua in basso abbiamo le impostazioni. Nelle impostazioni c'è una vagonata di roba che andremo a vedere. Come vedete ci sono i dettagli del negozio, il piano da selezionare, il billing, quindi il pagamento, i pagamenti nostri. Queste sono le fatture che ci arrivano, questi sono i pagamenti, la possibilità di gestire gli account degli utenti, le spedizioni, le tasse, i magazzini, le gift card, eccetera, le notifiche, eccetera, eccetera, eccetera. C'è veramente tanta roba. E dedicheremo quasi un video per ogni impostazione qua che possiamo settare. E poi faremo un video riepilogativo per quelle che in un video non ci stanno sostanzialmente. Quindi metteremo 4-5 parti più insieme. Alcune invece, tipo shipping and delivery, avranno un video ad hoc. Molte avranno un video ad hoc. Quelli che restano fuori semplicemente li gestiamo in un unico video. Ok? Quindi questa è la overview sostanzialmente, la visione iniziale del nostro back-end Shopify. Direi che non perdiamo tempo perché dobbiamo andare a fare quello che ci consiglia, che è capire come aggiungere dei prodotti. Dei prodotti semplici, perché poi andremo a creare le cose un po' più complesse. Ci vediamo tra poco. Grazie a tutti.